Siamo qua con i due simboli dell'Agenzia dei Moni, il Capitano, Rino, il Capitano forse anche fuori dal campo, un'altra coppa che si porta a casa. Sì, una stagione splendida, peccato per la finale primaverile dove abbiamo giocato a sottotono, forse una delle peggiori partite e ci mancava qualche elemento decisivo. Rino, oggi sei entrato, ormai i segni in continuazione, stiamo mettendo in difficoltà tutta la squadra. Sì, ma dura ancora poco perché l'età è quella che è, quindi mi dedicherò di più a fare il player manager. Ti vediamo ormai sempre da fuori, controllo totale della situazione. Sì, beh, ci provo perlomeno. Comunque sono contento, ringrazio tutti, la squadra, tutti quelli che hanno iniziato la stagione, ma come nel calcio succede da sempre, da lunedì si ricomincia di nuovo. Quindi la coppa la mettiamo in bacheca e da lunedì ripartiamo col campionato, che mi dicono agguerritissimo proprio. Su le coppe c'è sempre spazio in bacheca tra l'altro per voi? Sì, abbiamo allargato un attimino quest'anno, devo dire, però appunto ci prepariamo adesso il passato, festeggiamo stasera, da lunedì si ricomincia. Siamo contenti di partecipare, di fare questo campionato organizzato alla grande. Complimenti a voi per la zona tv e quindi siamo contenti. Perfetto, ti porti a casa il pallone, hai fatto una doppietta, però è uguale, si porta a casa uguale. No, perché è mio, è mio, quindi non porto a casa. Ragazzi vi faccio i complimenti veramente, ci vediamo al campionato. Ciao ragazzi.